L'aspetto di Windows in Linux ti risparmierebbe ansie? Oppure un tuo conoscente poco esperto ne trarrebbe vantaggio? Ecco come dare all'ambiente grafico Cinnamon di Linux Mint l'aspetto di differenti versioni di Windows. Ciao da Dario di Alternativa Linux. Alcuni linuxiani di vecchia data sostengono che Linux non dovrebbe nemmeno assomigliare a Windows e prediligono ad esempio un aspetto come quello dell'edizione principale di Ubuntu che si chiama GNOME, con una barra posizionata a sinistra e un menu di icone che si apre a tutto schermo, giusto per dire, ma altri, tra cui il sottoscritto, ritengono che un aspetto familiare permetta di ridurre lo shock da novità. Non lo penso solo io se differenti ambienti desktop, cioè tipi di aspetto che Linux può assumere, ricalcano comunque una cosiddetta metafora desktop in stile Windows. Tra questi c'è Cinnamon, l'ambiente realizzato da e per l'edizione ammiraglia di Linux Mint, che non ha bisogno di presentazioni perché è popolare non meno di Ubuntu. Inoltre, alcuni esperimenti di migrazione a Linux e software libero in ambito di enti locali hanno dimostrato che il più grande ostacolo di un nuovo utente, in mancanza di specifica formazione, risultava essere l'assenza delle comuni icone, dei browser e dei programmi della suite da ufficio di proprietà Microsoft. Dai un'occhiata a queste immagini. Tu, o forse il parente un po' attempato il cui PC, avrebbe bisogno di Linux per durare fino al doppio di quanto programmato, direste che abbiamo a che fare con Windows. È sempre Linux Mint Cinnamon. Oggi vediamo quindi come partire dall'aspetto predefinito di Linux Mint Cinnamon per conferirgli, con alcuni passaggi che non richiedono mai di aprire una finestra di terminale o digitare comandi astrusi, un aspetto amichevole per chi voglia liberarsi di Microsoft mantenendo alcune abitudini della precedente esperienza. Partiamo da alcuni elementi comuni. Ad esempio, i caratteri di sistema utilizzati a partire da Windows 7. Segoe UI, che puoi trovare e scaricare lecitamente da kufonfonts.com. Il pacchetto zip contiene quattro varianti del carattere. Normale, grassetto, corsivo e grassetto in corsivo. Puoi attribuirli subito ad un singolo utente del computer Linux aprendo il file manager Nemo, attivando la visualizzazione dei file nascosti dal menu Visualizza – Mostra file nascosti e copiando i file TTF all'interno della sua home in .local – Share – Fonts. Se desideri che tutti gli utenti del computer con Linux Mint dispongano dei caratteri, apri il file manager alla posizione File System e di lì su USR – Share – Fonts. Identifica la cartella denominata TrueType e cliccaci sopra con il pulsante destro del mouse. Nel menu contestuale troverai l'opzione Apri come root, che ti invito a cliccare, indicando poi la password necessaria per l'ingresso in cartelle di sistema. Nella nuova finestra del file manager potrai adesso copiare i caratteri. E poi chiudere tutto. Quanto al carattere a spaziatura fissa di Windows, Courier New, il mio consiglio, se non hai a disposizione il file TTF preso dall'OS Microsoft, è quello di installare in un solo colpo diversi caratteri Microsoft tramite il pacchetto software TTF MS Core Fonts Installer che trovi e installi con un clic dal centro software di Mint Gestori Applicazioni. Per impostare i caratteri Segoe e Courier New come caratteri di sistema, apri l'impostazione Seleziona carattere, che trovi nel menu principale di Mint sotto Preferenze. Qui potrai modificare a tuo piacimento le opzioni. Consiglio di impostare Courier New solo come carattere a larghezza fissa. Il secondo passo consiste nello scaricare e posizionare un tema di icone di sistema in stile Windows dal sito web cinnamon-look.org. Il tema di cui parlo è Wii 10X. Clicca sul pulsante Download e seleziona l'ultima opzione. Le altre conferiscono alle icone un colore differente dal giallo tipico dei sistemi Microsoft. A te la scelta. Altre buone opzioni per lo scaricamento di temi di icone per Linux Mint Cinnamon in stile Windows 10, Windows 7 e Windows XP vengono dal sito web del progetto Boomerang. A lato delle varie versioni ci sono i link per lo scaricamento dei temi in formato zip. Scompatta i file zip nel desktop. Poi apri il file manager Nemo e sempre con la visualizzazione dei file nascosti attiva. Per l'utente selezionato copia le cartelle nella sua home in .icons. Per attribuire le icone a tutti gli utenti accreditati apri invece il file manager dalla posizione file system. Entra in usr share e identifica la cartella icons. Cliccaci con il pulsante destro del mouse e seleziona Apri come root indicando la password amministrativa. Qui potrai incollare le cartelle di icone. Apri poi l'utilità temi che trovi nel menu di Mint sotto preferenze. Attiva la modalità avanzata se sei nella modalità semplice. Cliccando su icone scorrerai il lungo elenco di temi predefiniti di Mint trovando anche i nuovi temi di icone in versione chiara e scura. Un altro passo fondamentale per conferire al desktop Cinnamon quello di differenti versioni di Windows consiste nel ricorrere ancora ai temi messi a disposizione dal progetto Boomerang. Selezionando i temi desktop Windows potrai accedere allo scaricamento dei file tra i quali due versioni di temi per Windows 10, normale e fluent. Una volta scaricati e scompattati sul desktop i temi di tuo interesse puoi attribuirli al singolo utente Linux incollandole nel percorso che parte dalla home dell'utente stesso e poi in .themes. Anche in questo caso deve essere attiva la visualizzazione di file nascosti per vederla. Se invece desideri mettere i nuovi temi a disposizione di tutti gli utenti del computer, apri il file manager dalla posizione File System, poi su USR, Share. Identifica la cartella Themes e cliccaci con il pulsante destro e scegli Apre come root. Dopo l'indicazione della password per l'accesso a cartelle di sistema puoi incollarle al suo interno. Successivamente apri ancora l'utilità Temi che trovi nel menu di Mint sotto preferenze e modifica le impostazioni avanzate di Applicazioni e Desktop applicando i nuovi componenti scaricati. Per fare un buon lavoro dobbiamo pensare anche alle icone con il logo di Windows, nello stile delle varie edizioni del sistema operativo Microsoft per il menu Start. Le ho raccolte in differenti varianti in un unico file zip che ti invito a scaricare. Metto il link nella descrizione. Più avanti vedremo come sostituirle a seconda del tipo di menu che utilizzeremo per simulare quello di differenti versioni di Windows. Per conferire al menu di Linux Mint Cinnamon l'aspetto di quello di Windows 11 consiglio di utilizzare Cinnamenu che è gratuito e può essere installato con un click come Applet di Cinnamon. Successivamente alla sua configurazione elimineremo il menu predefinito di Cinnamon. Apri il menu e digita o cerca l'utilità Applet sotto preferenze. Nella scheda scarica, dopo lo scaricamento delle informazioni aggiornate, puoi cercare Cinnamenu o scorrere fino a trovarlo nell'elenco. Clicca sull'icona a destra per installarlo e vai alla scheda Gestione delle Applet. Clicca Cinnamenu e poi sul segno più sotto l'elenco. Cinnamenu sarà inizialmente posizionato nella parte destra del pannello di Cinnamon accanto alle icone più piccole. Per posizionarlo centralmente, clicca con il pulsante destro su uno spazio libero del pannello, cioè la barra inferiore, e attiva la modalità Modifica pannello. Clicca sul pulsante di Cinnamenu e tieni premuto il pulsante del mouse fino a rilasciarlo nella zona centrale evidenziata in colore verde. A questo punto trascina anche la Applet elenco finestre raggruppate, che contiene le icone dei programmi fissati nella barra, subito a destra di Cinnamenu. Adesso puoi disattivare la modalità Modifica pannello. Siamo già a buon punto, ma possiamo modificare l'aspetto del pulsante di apertura del menu, eliminarne il testo ed effettuare altre modifiche alle impostazioni generali. Io ad esempio, sotto la scheda Aspetto, imposto a 42 pixel la dimensione icone della griglia e sostituisco l'immagine predefinita con l'icona appropriata. Ti ricordo inoltre che puoi ridimensionare a piacere il menu di Cinnamenu trascinando nei bordi nella posizione desiderata. Clicca con il pulsante destro del mouse sul bottone di Cinnamenu e poi su Configura per accedere all'impressionante numero di impostazioni modificabili. Al termine delle impostazioni, clicca con il pulsante destro del mouse sul bottone del menu predefinito e su Rimuovi menu. Potrai sempre riattivarlo dall'elenco Applet cliccando il segno più sotto l'elenco dopo averlo selezionato. Alcune Applet Cinnamen consentono di conferire al desktop alcuni dettagli della più recente versione di Windows 11. Abbiamo già visto come scaricare le Applet. Ti consiglio le Applet Meteo di MockTartle e Casella di ricerca Internet di Cloudyux. Una volta scaricate, installate e aggiunte al pannello di Cinnamenu, nella modalità Modifica Pannello puoi trascinare Meteo sul lato sinistro e la Casella di ricerca nella zona centrale subito a destra del pulsante Start di Cinnamenu. Sempre con il pulsante destro del mouse sopra le Applet accedi alle rispettive configurazioni. Un altro passaggio consiste nell'utilizzare la Applet Expo per simulare la visualizzazione di tutte le aree di lavoro come in Windows 11. Una volta installati Iconi, Temi e Caratteri di Windows come indicato in precedenza, puoi conferire l'aspetto di Windows 10 a Linux Mint Cinnamon modificando i componenti dalle impostazioni avanzate dell'utilità Temi di Mint. Per quanto riguarda il menu puoi utilizzare sia quello predefinito di Linux Mint Cinnamon sia Cinnamenu. Quest'ultimo permette ad esempio di impostare una visualizzazione a lista o griglia, attivare una modalità con riquadri in stile Metro e aggiungere descrizioni dei programmi sotto alle icone. Per quanto riguarda invece l'aspetto di Windows 7 in Linux Mint Cinnamon, applica dall'utilità Temi i componenti dell'ottimo tema Boomerang per Windows 7 ad Applicazioni e Desktop come già spiegato. Poi il mio consiglio è quello di ricorrere ad una differente applet per il menu principale. Si tratta di Syn7 Stark Menu che ne richiama l'aspetto più fedelmente rispetto al menu predefinito di Cinnamon e a quello di Synnamenu. Anche Syn7 Stark Menu si installa e attiva come descritto prima per Synnamenu. Nella modalità Modifica pannello però vorrai spostarlo all'estremità del lato sinistro. Un altro accorgimento potrebbe essere quello di sostituire la applet predefinita elenco finestre raggruppate con quella elenco finestre, già disponibile tra le applet predefinite di Synnamen. In questo caso ogni finestra aperta del medesimo programma avrà una propria icona rettangolare provvista di indicazione testuale proprio come avveniva precedentemente a Windows 7. successivamente potrai rimuovere elenco finestre raggruppate. Per applicare un aspetto simile a quello di Windows XP a Linux Mint Cinnamon applica anzitutto i componenti del tema Boomerang per XP dalle impostazioni avanzate di temi ad applicazioni e desktop. Anche in questo caso consiglio di ricorrere alle applet Sin7 Stark Menu ed elenco finestre, rimuovendo successivamente il menu predefinito di Synnamen e la applet elenco finestre raggruppate. Uno tra tantissimi vantaggi di utilizzare Linux in luogo di Windows è quello di poter scegliere nei dettagli l'aspetto del proprio sistema operativo, laddove Windows consente limitatissime possibilità di stilizzazione e personalizzazione estetica. Linux Mint è tra le distribuzioni Linux che permettono le maggiori possibilità in questo senso, specialmente l'edizione Cinnamon appositamente creata. Alcuni accorgimenti consentono di replicare in modo soddisfacente l'aspetto di attuali e precedenti versioni di Windows, al fine di semplificare una transizione verso Linux, la gratuità, la libertà di comprendere i meccanismi di funzionamento e sfuggire alle politiche aggressive del software commerciale e dell'obsolescenza programmata. Grazie per il tuo interessamento a questo video e alla prossima! Grazie per la visione! Grazie! 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 Grazie!